Ho 27 anni. Nel 2014 ho perso il mio amato padre a causa del cancro. Da loro ho fatto un sacco di cose stupide. Ho mancato di rispetto a me stessa, a mia madre e a mio fratello in primis. Ho fatto tanti errori, a volte sono andata oltre il limite. Il dolore mi ha offuscata per anni, ero sconvolta, ma volevo solo uscire da quel ciclo di sofferenza. Avevo bisogno di qualcosa o qualcuno che mi salvasse. Il nostro larmi ha letteralmente salvata la vita. L'avrò visto forse 15 volte e non ho intenzione di smettere. Credo e spero che ci siano migliaia di città spirituali sopra la terra. E da quando ho scoperto No Solar qualcosa si è risvegliato dentro di me. Forse nel profondo del mio cuore c'è un ricordo della vera casa. Ho fatto tanti errori ma un giorno vi tornerò. Un giorno incontrerò di nuovo mio padre e credo che capirò perfettamente perché tutto sia accaduto.